Celiaco? Era qui ora? Celiaco? Ma non erano giocatori? Allora c'è qualcuno di voi che è celiaco? No, però i vignesi mangiano anche quelli dei ciliaci. Emanuela Ghinazzi, sorella di Pupo, che ha scritto un libro tra l'altro sulla celiachia, edito dalla RAI, che sta per uscire a settembre, nelle peggiori librerie, perché le meglio non le hanno volute, no scherzo, nelle migliori librerie, ci parla dei celiaci. Si dice celiaceo, si dice. Diggielo a Rebelli che si dice celiaci. Come dice? Il celiacio. Celiacia? Non siamo in una pasticceria, bensì siamo, pensate, tornati a trovare Manuela Ghinazzi, che sta preparando dei bignè per celiaci, tanto per far capire che poi alla fine un celiaco non deve rinunciare a niente. A nulla, nulla. È giusto che si senta... Il nostro obiettivo è quello. Allora, Manuela, parlo male perché ho l'acquolina con questi due cettini. Questi sono bignè, con le solite grammature difficili... Da rispettare proprio quello che vedete scritto in ricetta, in sovraimpressione, è importante, mi raccomando, rispettare le dosi delle farine. Tutte le dosi comunque in generale, di tutta la ricetta vanno rispettate perché è molto importante. Io intanto ricordo che ci sono tante camere di commercio che spiegano ai ristoratori che volessero fare dei corsi per cucina per celiaci. Li troverete esposti sulla porta del ristorante, c'è scritto... Ci sono proprio dei ristoranti abilitati a... In casa, insomma, uno riesce ad ottenere esattamente le solite cose del rispettivo, insomma, con il glutine. Allora, questi adesso vanno messi in forno. Esatto. Quindi li inforniamo. Mettiamo in forno a 200 gradi per una ventina di minuti. E dopo 20 minuti il celiaco e anche il presentatore si fa un bel buffet, insomma. Allora, voi avete anche un sito, giusto? Sì, sì. Cucina in simpatia. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutte le ragazze che partecipano. www.cucinainsimpatia.net Punta net. Esatto. E tra l'altro è un forum, quindi potete rivolgervi per fare domande, per dare dei consigli e per attingere dei consigli. Esatto. Allora, buona cottura. Esatto. Poi ci mettiamo anche un pochino di crema dentro, così vengono perfetti. Quindi il bignè ripieno. Ripieno con la crema. Ripieno con la crema. Ripieno con la crema. Ripieno con la crema. Ripieno con la crema.